Ehi, ciao, ciao a tutti, mi presento, io sono lui mentre lei mi dica Pepper, voi invece come vi chiamate? Ragazzi, fuori la voce! Come vi chiamate? Hai sentito più veri nuovi, siamo davvero contenti di conoscervi, siamo contenti anche perché abbiamo dei nuovi vicini, io sto parlando della famiglia di Blue, la conoscete? Solo che c'è un piccolissimo problema perché a dire la verità non l'abbiamo ancora vista e non l'abbiamo trovata da nessuna parte e vogliamo giocare con lei, voi per caso l'avete vista? Sì? Dove? Dietro di noi, davvero? Ma certo, andati qua! Blue, forza, vieni! Dobbiamo giocare con te! Ma dov'è andata? Ma ragazzi, voi l'avete vista, vero? Sì? Aspetta, certo che ci sono le impronte, le vedo! Allora facciamo così, seguiamo le impronte e vediamo se riusciamo a trovarla, forza, forza Pepper, seguimi da questa parte, poi vediamo, sì sì certo, girano di qua, sì, le vedo, no, guarda, seguono da questa parte e ragazzi, voi siete sicuri che non siete riusciti a trovarla? Eh no! Eccoti Blue, viene immediatamente qui! Cosa fai? È tornata a casa? Io credo che tutti i bimbi vogliano giocare insieme a te, giusto ragazzi? Sì! Allora glielo chiediamo a Blue, che gioco possiamo fare tutti quanti insieme? No! Beh ridi anche! Dai, ti ho fatto una domanda, ti ho chiesto che gioco possiamo fare tutti quanti insieme! Aspetta! Ho capito, mi state copiando? È il gioco del cane copione! Però ha ragione, noi possiamo giocarci tutti insieme! Voi siete d'accordo? Dai, dai, facciamo così però! Dobbiamo copiare tutte le mosse della nostra Blue! Tu sei pronta! Ma guarda che è arrivata anche la musica! E quindi non c'è mai altro che iniziare! Da che cosa iniziamo? Dallo stretching e ci riscontriamo? Siete pronti? Facciamo un pochino di stretching da tutti insieme! Vai bimbi, così! Giù! Ancora! Poi, su e dall'altra parte! Abbiamo terminato, no? Si gira? No, si gira! Ok, così! Ok, pronti ragazzi! Io non ho capito bene, noi lo attiviamo! Poi, mi allungo dall'altra parte! Giro! Ok, ok! Ora però, che ci siamo riscaldati, è arrivato il momento di entrare nel filo del gioco del cane copione! Lui! Delle altre mosse! Proviamo a seguirci! Bimbi, vai! Giù! Su! Su! E ora? Mi ha fatto un progetto! Bravissimi! Sono stati perfetti i nostri amici! Noi un po' meno, diciamoci la verità! Sì, c'è qualcosa da me di dire? No, sai che... Non ci credo, ma lo sapeva già, come l'hai vista tu, ma non era un segreto, allora facciamo così bimbi, chiamiamola tutti insieme al mio 3, pronti? 1, 2, 3, bingo! Vai, vai, vai! Recupero, lancio! Ok! ecco, va bene vai guardi, mi scelgo vai vai allora ragazzi, se riuscite a lanciarlo tra di lui, i bimbi riescono a giocare ok? così buon appetito, bravo bravo bravo, bravo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.